dovremmo esserci ci siamo? eccoci, sì, direi proprio di sì allora, amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti buonasera, oggi ho una scusa per il ritardo abbiamo una scusa per il ritardo come sapete oggi parliamo di privacy parliamo di sicurezza in quanto a bitcoin insomma come preservare e perché preservare la privacy quando si utilizza bitcoin e io cosa ho chiesto a Riccardo che è il nostro ospite di stasera, tra poco si presenterà gli ho detto, ascolta, ti spiace se usiamo Skype perché è l'unica applicazione di video call che riesco a integrare alla perfezione col software che uso per streamare e lui giustamente mi fa Skype è l'anticristo io mi rifiuto di utilizzarla allora abbiamo provato più o meno per un quarto d'ora di configurare tutto e alla fine abbiamo deciso di usare Streamyard quindi abbiamo ripiegato su questo quindi oggi è andata così niente, vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto perché secondo me è molto divertente ma è anche a tema poi con ciò di cui parliamo oggi che appunto è la privacy la privacy è una parola di cui spesso si abusa sia da una parte che dall'altro ovvero chi parla di privacy dove non c'entra niente vuole difenderla dove non c'entra niente chi invece la trascura del tutto oggi cerchiamo di capire soprattutto per quanto riguarda il mondo delle cripte il mondo di Bitcoin che come ben sapete è tutto forché privato se non ci si fa caso personalmente se non si prende delle precauzioni adeguate per difendere la propria privacy oggi vediamo proprio perché uno ci dovrebbe pensare e soprattutto come farlo l'ospite di oggi è Riccardo Masutti che è un esperto di queste tematiche non so chi di voi era alla Crypto Conference dell'anno scorso ha tenuto anche uno speech molto interessante proprio sulla privacy e sulla sicurezza dove tra l'altro ha tirato fuori alcune chicche sugli hardware wallet che nemmeno io sapevo e oggi insomma ci facciamo una chiacchierata rispondendo anche alle vostre domande su questi due temi Riccardo presentati brevemente dici chi sei dici cosa ci fai qui di cosa parliamo insomma introduci un po' il discorso Beh innanzitutto mi scuso per il ritardo è stata colpa mia però la colpa è molto legata al tema di cui parleremo questa sera appunto che è la privacy ovviamente abbiamo scherzato su Skype per un motivo semplice perché cerco di utilizzare esclusivamente software open source infatti io appunto sono Riccardo Masutti sono uno sviluppatore seguo diversi progetti open source di Bitcoin principalmente legati alla sicurezza e alla privacy sono anche un ricercatore indipendente cerco questi temi e da due anni a questa parte collaboro anche con il team di sviluppo di Wasabi Wallet che è un wallet privacy oriented appunto ringrazio Luca per l'invito spermo che questa live vi possa aiutare cercherò di spiegarvi le best practices per preservare la vostra privacy se utilizzate exchange a prescindere che siano centralizzati o decentralizzati perché appunto l'obiettivo di questa live è quello di innanzitutto farvi capire che ci sono seri problemi legati alla privacy su Bitcoin e cercherò anche di darvi insomma le soluzioni oppure appunto alcuni spunti che vi serviranno in futuro per iniziare a comprendere sempre meglio questo tema e informarvi sempre di più quindi grazie Luca e spero che ci siano viati molti grazie a te Riccardo di aver accettato insomma di fare questa chiacchierata insieme e io innanzitutto ti chiedo ma la privacy su Bitcoin se uno non ci fa caso nel senso se uno lo utilizza un po' come appunto l'ultimo arrivato mi immagino utilizza l'exchange ha magari il suo hardware wallet se sta un po' attento alla sicurezza cerca di non tenere i Bitcoin online e a uno viene da pensare ma perché io dovrei preoccuparmi di difendere la privacy la classica frase è non ho niente da nascondere e quindi a me non interessa difendere la privacy qual è il motivo che dovrebbe invece spingerci a stare attenti a difendere la privacy e a mantenerla? Beh innanzitutto il discorso che non abbiamo niente da nascondere è una falsità enorme è usata spesso come scusa secondo me per andare contro appunto principi di privacy ricordiamoci che appunto la privacy è un diritto umano fondamentale tutti noi abbiamo dei segreti e anzi i segreti ci permettono di utilizzare al meglio la tecnologia di oggi possiamo parlare di croteografia possiamo parlare di comunicazioni sicure ci sono di PIN, delle carte di credito quindi la sicurezza è un concetto molto importante che molte volte si basa appunto sui segreti cos'è un segreto? è qualcosa che noi non vogliamo condividere magari con tutti o magari solo con alcune persone con alcune entità ecco che su Bitcoin noi abbiamo la libertà di essere completamente trasparenti ma abbiamo anche la libertà di essere pseudo-anonimi quindi possiamo decidere di utilizzare Bitcoin appunto con degli pseudonimi che ci proteggono e ci permettono di utilizzarlo in totale libertà adesso tutto il concetto di pseudonimia è importante perché molte persone pensano che Bitcoin sia anonimo questo non è la realtà tutte le transazioni che avvengono sulla blockchain sono pubbliche salvate sul registro distribuito nel mondo praticamente non censurabile non più cancellabile quindi una qualsiasi azione e transazione che effettuate sulla blockchain di Bitcoin verrà registrata per sempre quindi immaginate adesso di avere tantissimi segreti sparsi per internet a disposizione di tutti e pensate anche che questi segreti in questo caso perché appunto immagino che la maggior parte degli utenti che ci sta guardando siano utenti anche di exchange ecco immaginate che questi segreti riguardino soprattutto le vostre operazioni finanziarie non solo immaginate che da questi segreti noi possiamo accedere ad altri segreti che avete compiuto dei giorni dopo o delle settimane dopo quindi altre transazioni che avete effettuato sulla rete di Bitcoin questo è esattamente Bitcoin per chi fa molte transazioni per chi appunto è solitamente un trader quindi che sposta molti fondi tra exchange ed altri exchange tra wallet non custodia e wallet custodia quindi una cosa molto importante da ricordare è che tutto quello che è effettuato sulla rete di Bitcoin è salvato non è più cancellabile e prova che voi avete avuto Bitcoin una certa quantità di Bitcoin in un certo periodo quindi se non riusciamo come entità o come singoli anche a raccogliere tutti questi vostri segreti tutte queste vostre transazioni siamo in grado di avere il quadro generale di tutti i vostri movimenti finanziari di quanto denaro possedete di quanto valore possedete in questo caso di Bitcoin di quanti Bitcoin possedete il discorso di avere privacy nella gestione patrimoniale nella propria finanza è importantissimo non vorremmo mai condividere con il mondo quanti soldi possediamo eppure lo stiamo facendo in ogni secondo su Bitcoin soprattutto visto che utilizziamo degli exchange noi leghiamo la nostra identità a questi Bitcoin quindi molte volte se vogliamo accedere e usufruire dei servizi di exchange centralizzati dobbiamo effettuare il KYC ecco che in quello specifico momento quando noi inviamo i documenti quando decidiamo di fare il KYC per utilizzare un exchange che è indispensabile per chi appunto vuole comprare e vendere Bitcoin o speculare su Bitcoin ecco che noi leghiamo a degli indirizzi a dei Bitcoin la nostra identità il nostro nome e cognome la nostra data di nascita la nostra posizione nel mondo perché appunto è obbligatoria ed è anche giusta a volte nel caso degli exchange centralizzati è importantissimo perché appunto lo scopo di un exchange centralizzato è quello di garantire che l'exchange stesso non sia utilizzato per riciclare denaro o per fare movimenti particolari che molte volte sono illegali ecco che gli exchange devono seguire delle regole devono seguire delle leggi e devono appunto richiedervi documenti il problema è che qualcuno che chiede scusa Riccardo se ti interrompo però su quello che stiamo dicendo un commento dice tutto bellissimo ma per vedere il mio amount devi conoscere anche tutti gli address collegati al mio portfoglio quindi in sostanza per avere il quadro generale di una persona non basta chiaramente un address ma deve conoscere appunto tutto il suo wallet che teoricamente dovrebbe essere composto da più address se uno ci tiene ovviamente a massimizzare la sua privacy e a difenderla magari di più coin magari in più luoghi diversi come commenti questa cosa sei d'accordo? volevo arrivare proprio a quel punto di come è possibile da un segreto una piccola informazione a risalire a tutte le altre informazioni legate a tutte le altre transazioni indirizzi appunto perché quando voi decidete di condividere tale informazione con questi exchange questi exchange devono raccogliere queste informazioni e devono metterle al sicuro quindi voi vi assumete il cosiddetto rischio di controparte verso un exchange vi fidate che questo exchange tenga al sicuro dei dati ricordiamoci anche che questi exchange da quest'anno dal 2021 dovranno assicurare la cosiddetta travel rule la travel rule è una legge che impone gli exchange di tantissime azioni nel mondo di comunicare tra di loro in tempo reale lo stato e diciamo l'identità degli account quindi nome e cognome posizione geografica indirizzi ecco quindi voi dovete innanzitutto fidarvi che questi exchange mantengono i vostri dati al sicuro e quindi dovete fidarvi e sperare che nessun hacker ha di questi exchange se noi andiamo a vedere la lista degli exchange hackerati negli ultimi dieci anni da quando esiste bitcoin si contano decine forse centinaia addirittura probabilmente decine tantissimi ma ci stiamo avvicinando a centinaia molto velocemente di exchange hackerati ecco che in quel caso se un malintenzionato quindi io parlo di hacker vengono in processo di quei documenti di queste informazioni ecco che li possono risalire tutti i vostri movimenti finanziari e questi dati possono essere rivenduti è il caso di ledger è successo poco più di un mese fa quindi un conto magari essere vittima di un data breach di ledger quindi degli hacker ma in questo caso l'intero mondo perché il database è stato pubblicato reso pubblico ecco che l'intero mondo sa che voi possedete un ledger immaginate adesso cosa può succedere se degli hacker o l'intero mondo viene a sapere di quanti bitcoin possedete quindi qua nasce un problema come mettere in sicurezza le proprie informazioni ci sono molti modi innanzitutto ovviamente se noi vogliamo assicurarci che le nostre informazioni non vaghino per la rete dovremmo cercare di utilizzare degli exchange decentralizzati poiché non ci richiedono documenti o altre informazioni molto sensibili e personali il problema però è che molte volte questi exchange decentralizzati appunto hanno poco liquidità hanno poco volume quindi ci affidiamo a quelli centralizzati nonostante ciò anche se decidessimo di dare totale fiducia a un determinato exchange o a più exchange possiamo comunque cercare di migliorare e di fare un improvement della nostra privacy come sfruttando delle tecnologie dei determinati wallet dei determinati siti dei determinati servizi che tutelano non tutte le nostre informazioni ma una serie di queste informazioni e in sostanza per fare questo come si può fare concretamente perché un'altra cosa che mi viene da pensare spesso è ma ha ancora senso parlare di difendere la propria privacy se noi di fatto poi facciamo il KYC su un exchange oppure no? Assolutamente sì perché noi possiamo il concetto di privacy è molto importante perché privacy significa decidere con quale persone o entità condividere determinato tipo di informazioni quindi io posso decidere di dare massima fiducia a un exchange centralizzato e condividere le mie informazioni però perché non devo preoccuparmi della mia privacy rispetto all'intero network di bitcoin quando so che l'intero network di bitcoin è pubblicamente visibile e controllabile da chiunque quindi dovete capire che nel 2021 ma anche 5 anni fa o anche all'inizio di bitcoin sono andate tantissime entità il cui unico scopo è quello di monitorare le transazioni di fare analisi per capire come si muovono i fondi dove si muovono e questo crea un enorme danno alla privacy di tutte le persone che vogliono utilizzare bitcoin ovviamente molti potranno pensare cavolo è difficile sembra tutto difficile ma così non è perché bitcoin ad oggi è molto semplice da utilizzare ci vuole molto impegno molta costanza penso che Luca ne sappia qualcosa insomma tutte le persone che decidono di studiare bitcoin si rendono conto che è un processo molto molto lungo che richiede molto tempo però non è assolutamente difficile secondo me si tratta solo di avere costanza come fare? penso che ci siano potrei contare sulle dita di una mano i consigli che vorrei darvi su come migliorare la vostra privacy innanzitutto potreste usare una VPN o Tor che è meglio di una VPN che preserva i vostri IP quindi voi con l'exchange potete comunque comunicare i vostri dati personali però potete non mostrare la vostra attuale posizione nel mondo e questa cosa potete farla non solo con gli exchange ma potete farla con tutti gli altri siti che visitate quindi tutelate una vostra informazione potete decidere di privilegiare gli exchange con Latin Network perché perché su Latin Network noi non lasciamo tracce sulla chain principale di Bitcoin alcuni esempi di exchange con Latin Network sono Bitfinex e DocEx se non sbaglio che da poco ha annunciato che nei primi 4 mesi del 2021 integrerà Latin Network ci sono pro e contro anche in questo caso ovviamente dovete capire a cosa volete puntare un altro modo per migliorare la propria privacy con gli exchange centralizzati è sicuramente quella di utilizzare anche tecnologie come CoinJoin perché perché vi permettono di avere magari zero privacy verso l'exchange ma di avere totale privacy verso tutto il resto del network perché c'è questa disinformazione circa di CoinJoin che se noi decidiamo di fare un CoinJoin o di fare mixing dei nostri Bitcoin allora gli exchange ci bloccano non è così gli exchange mi ricordo che c'era stato un caso che aveva fatto scalpore di Binance Singapore forse era un annetto fa più o meno appunto gli exchange non fanno ciò gli exchange una volta che vedono che c'è diciamo un profilo di rischio e comunque CoinJoin potrebbe essere un profilo di rischio richiedono l'origine di quei fondi quindi noi cosa facciamo comunicando l'origine di quei fondi perché siamo assolutamente utenti normali che vogliono solamente avere un po' più di privacy noi decidiamo di comunicare le nostre informazioni all'exchange l'exchange ci permette di utilizzare quei Bitcoin ma abbiamo totale privacy verso il resto del network quindi vedete è sempre scegliere è sempre la questione di scegliere cosa condividere con chi ovviamente è un tema che è molto lungo potremmo parlare per ore forse giorni di privacy su Bitcoin una cosa molto interessante che è veloce anche da leggere il white paper di Bitcoin il white paper di Bitcoin spiega molto bene il concetto di privacy su Bitcoin e lo rende molto chiaro ovvero dice che essenzialmente la privacy è garantita grazie all'opseudonimato di Bitcoin però nel caso che voi appunto confermiate l'identità e il possesso di un determinato indirizzo ecco che non avete più privacy si perde certo sì sì di fatto alla fine utilizzando dei metodi come coin join corregimi se sbaglio è come creare una sorta di firewall tra quello che accade all'interno dell'exchange e tutto il resto quindi tu quello che succede nell'exchange l'exchange lo sa sa che lo fai tu sa che i movimenti fai ma come dicevamo prima è necessario perché quando utilizziamo un servizio di quel tipo lì come di fatto può essere una banca o un altro servizio finanziario è richiesto per legge e quindi non si scappa ma almeno da fuori cioè non si riesce ad unire i puntini a portare il tuo nome e cognome a tutta la tua serie di address che possiedi e questo è un enorme passo avanti qui qualcuno vedo che chiede se secondo te le informazioni ricavabili dalla blockchain di bitcoin saranno in futuro utilizzate anche dai governi e come consigli di tutelarci beh in un certo senso ci hai già risposto parlando ad esempio di coin join io personalmente mi immagino che non so se già adesso o magari in futuro di più succederà di più io credo che appunto ci sarà un recupero di questi dati un po' come i paesi cercano di inquadrare bene o male i dati finanziari delle persone dalle banche vuoi per individuare eventuali illeciti vuoi comunque per avere un certo tipo di monitoraggio io penso che il network bitcoin che tra l'altro si presta ancora meglio a un'attività di questo tipo in un caso in cui bitcoin dovesse crescere ancora di più in termini di adozione di valore di diffusione nella popolazione mondiale penso che si arriverà anche a quello ma in realtà sta già accadendo accade da tanti tanti anni penso che ci siano una quarantina di aziende che offrono servizi di blockchain surveillance e blockchain analysis quindi analisi di blockchain e hanno anche contratti governativi ma è normalissimo è indispensabile l'obiettivo di un governo è quello di cercare di combattere l'illegalità di combattere il riciclaggio di denaro con bitcoin di combattere tutta una serie di azioni criminali che vengono con bitcoin io sinceramente sono quasi stufo di sentire sempre bitcoin accomunato ad azioni criminali quando è constatato che la maggior parte delle transazioni sono di gente che o muove bitcoin o specula con bitcoin o compra qualcosa con bitcoin cioè bitcoin ricordiamo che non è più utilizzato dai criminali cioè anche perché non gli conviene ma esatto perché è estremamente trasparente cioè anche se io decidessi di fare un coin join o di cercare di migliorare il mio privacy comunque lascerei una serie di dati che rimarrebbero sempre scritti sulla blockchain quindi la storia di accomunare bitcoin all'illegalità rispetto a generare è una storia vecchia è molto molto vecchia perché appunto ci siamo resi conto che tutti quelli che hanno utilizzato bitcoin e hanno cercato anche di appunto scappare dalla giustizia in qualche modo sono sempre stati catturati nella maggior parte dei casi quando hanno movimentato bitcoin quindi ripeto e poi cioè è veramente una cosa minima quella che sta accadendo su bitcoin rispetto a quello che sta accadendo anche con circuiti bancari tradizionali o con contanti sì certo poi se uno va a vedere le notizie vede che i maggiori riciclatori di denaro sono stati le banche stesse quindi è chiaro che è un tentativo di fare i detrattori verso bitcoin questo di ma che poi è già fallito secondo me andava un po' di moda gli anni scorsi poi hanno visto che non attaccava il discorso di legare bitcoin alla criminalità al riciclaggio al dark web e così via e alla fine hanno cambiato un po' retorica ma alla fine era solo un tentativo come un altro di detrazione poi sai si vede comunque anche proprio in questo momento io personalmente seguo alcuni blog che parlano anche comunque di darknet che parlano di quello che succede appunto nella darknet e mi sono preso conto che negli ultimi mesi tantissimi appunto negozi sulla darknet hanno smesso di accettare bitcoin e hanno cominciato ad accettare solo monero in questo caso perché? perché lo ritengono molto più anonimo perché è pensato per l'anonimato di bitcoin anche là ripeto non sappiamo bene quanto anonimato ci sia perché ripeto che nella maggior parte delle volte è l'umano che utilizza in modo corretto scorretto una determinata criptovaluta quindi io posso anche decidere di utilizzare la criptovaluta più anonima ma se alla base mi manca una struttura sicura e una struttura anonima ecco che è inutile utilizzare criptovalute anonime come monero secondo me magari uno usa monero poi lascia esposto l'indirizzo IP lascia esposto la localizzazione e altre cose di questo tipo alla fine diventa un po' un controsenso esatto non si tratta di evadere dalla giustizia o scappare dalla giustizia o fare cose illegali la privacy ripeto è un diritto umano fondamentale è importantissimo avere privacy nel mondo digitale perché ormai siamo immersi in questo mondo e ogni volta che utilizziamo servizi prodotti che compriamo qualcosa lasciamo delle tracce online e un conto è lasciare delle tracce su non so se abbiamo comprato una fotocamera o qualcos'altro ma un conto è lasciare tracce su una blockchain pubblica di quanti bitcoin possediamo e di cosa facciamo con i soldi questa è una cosa rischiosissima sì sì perché tra l'altro vedo molti che sono toccati personalmente anche dal tema della dichiarazione sul quadro Rw doppio come fare cosa non fare e molti se ne escono magari dicendo io non dichiaro niente faccio prima adesso io non mi permetto di giudicare la decisione di nessuno però se uno magari decide di seguire una certa strada e poi lascia delle tracce piuttosto evidenti di quello che fa c'è il rischio che nel caso in cui bitcoin arrivasse a un milione di dollari che la sua ricchezza dovesse aumentare o che in futuro questa persona dovesse essere osservata per un qualsiasi motivo caspita ha lasciato una serie di tracce che poi va a finire che è difficile è impossibile anzi cancellare quindi è un po' un controsenso e qualcuno chiede a tal proposito quali exchange decentralizzati ti senti di consigliare per ad esempio operare fare compravendite senza cioè lasciando il meno tracce possibile vorrei un attimo prima di rispondere alla domanda che arrivo subito vorrei ricollegarmi a quello che hai detto cioè è importante seguire la legge è importante essere corretti perché certo tutti i nodi vengono al pettine ok però dovete capire che il concetto di privacy non c'entra quasi nulla con queste cose il concetto di privacy in questo caso di bitcoin c'entra c'entra che voi state condividendo dati con tutti in ogni secondo ci sono persone che studiano e analizzano la blockchain per monitorarvi perché i vostri dati valgono tantissimo viviamo nell'era si dice del cioè il nuovo petrolio sono i dati i nostri dati sono importantissimi dobbiamo tutelarci dobbiamo cercare di condividere meno dati con il pubblico quando utilizziamo bitcoin condividiamo continuamente dati con il pubblico e dati di grande valore tra l'altro dati finanziari comunque circa il discorso degli exchange decentralizzati io personalmente consiglio di dare un di guardare BISC è molto molto interessante BISC perché è completamente trustless sicuro anche quello molto privacy oriented HODL è un altro servizio molto interessante quindi odl.com e BISC.network se non sbaglio personalmente consiglierei questi due ce ne sono altri tanti ci sono tantissimi tantissimi servizi per scambiare in modo trustless bitcoin con altre criptovalute o per appunto acquistare e vendere però anche qua voi date sempre fiducia a qualcuno quindi cercate sempre di scegliere software che hanno molta reputazione software che hanno molti developer dietro software che vengono costantemente controllati che c'è un audit del codice perché dobbiamo sempre dare fiducia a qualcuno ovviamente quando si tratta di programmi di software dare fiducia a software open source ci tutela molto se parliamo di sicurezza privacy questo è il motivo per cui appunto io prediligo software open source e personalmente appunto collaboro e sono un contributor di software open source chiaro chiarissimo sì sono d'accordo con questo punto di vista e oltre all'exchange ovviamente l'altra applicazione l'altro nodo diciamo da gestire da saper gestire per quanto riguarda il movimento di bitcoin sono i wallet di fatto quindi qualcuno chiede qui io vedo che ci sono le domande più disparate in assoluto sui wallet chi chiede se gli hardware wallet sono davvero sicuri chi chiede qual è il wallet migliore su cui custodire i bitcoin dal punto di vista della sicurezza quindi e della privacy secondo te Riccardo ad esempio qui qualcuno chiede trust wallet electrum i wallet android i wallet mobile o i wallet desktop come che punteggio gli si potrebbe dare rispetto magari anche a un hardware wallet come il ledger il tresor e poi ovviamente arriviamo anche a parlare di wasabi perché mi sembra di aver capito che è uno dei migliori a tutte le carte in regola allora se parliamo di sicurezza quindi immaginiamo che noi possiamo avere tanti wallet su bitcoin giusto noi possiamo decidere di avere di detenere una serie di bitcoin su degli exchange per movimentare però se siamo furbi cerchiamo di tenere una parte che solitamente non usiamo che non utilizziamo o che non vogliamo utilizzare in un wallet di cui deteniamo le chiavi private quindi in un wallet al sicuro possibilmente offline perché offline perché appunto se un wallet è collegato ad internet è attaccabile dall'esterno se un wallet non è collegato ad internet è attaccabile solo fisicamente cos'è appunto un hardware wallet un hardware wallet è un dispositivo pensato appositamente per creare e tenere in sicurezza dei wallet le chiavi private dei wallet quindi è molto più sicuro rispetto a un computer quindi a creare un wallet su un computer perché il suo unico scopo è appunto quello 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 di creare un wallet bitcoin però in questo caso noi comunque diamo fiducia giusto noi diamo fiducia al produttore di hardware diamo fiducia all'implementazione diamo fiducia al software diamo fiducia al codice speriamo che non ci siano dei bug diamo fiducia a quando il wallet ci viene spedito a casa quindi ci sono tantissimi processi dove la nostra sicurezza quindi la sicurezza dei nostri fondi potrebbe essere compromessa ma anche la privacy dei nostri fondi potrebbe essere compromessa però in ogni caso io personalmente consiglio sempre di avere un hardware wallet perché appunto lo ritengo il metodo più sicuro soprattutto per gli utenti magari neofiti o comunque che vogliono un dispositivo semplice da utilizzare e immediato ecco che appunto l'hardware wallet è un'ottima un'ottima cosa personalmente ritengo che se parliamo di sicurezza a me piace molto il cold card che è un wallet bitcoin only mentre se parliamo di multi coin allora possiamo tranquillamente parlare di ledger trezor cobo ce ne sono tantissimi ognuno ha dei pro e dei contro ovviamente sono temi molto molto complessi però in ogni caso tutti questi wallet nella maggior parte delle volte hanno gli stessi problemi circa appunto la fiducia che si pone nella supply chain quindi tutti i passaggi dalla creazione alla spedizione dell'hardware wallet a casa vostra e secondo te il data breach ad esempio di ledger può aver avuto delle controindicazioni riguardo alla privacy dei suoi clienti dal punto di vista poi dei bitcoin detenuti o sono due cose che non c'entrano nulla e invece c'entrano perché e questa è proprio una bella domanda hai fatto la domanda giusta per parlare del prossimo argomento ovvero che ok in teoria ragioniamo sempre in teoria perché quello che noi di cui parliamo sono supposizioni giusto noi supponiamo che gli hacker abbiano solamente in mano il database degli acquisti giusto quello che sappiamo noi il pubblico sa questo però il gruppo di hacker potrebbe avere ancora o potrebbe aver hackerato appunto un altro database contenente magari i wallet e gli IP legati appunto a determinati utenti di ledger ricordiamoci che se noi non abbiamo un full node e utilizziamo lanciamo per la prima volta un hardware wallet e utilizziamo i servizi default quindi nel caso di ledger i server di ledger nel caso di bitbox i server di bitbox nel caso di trezor i server di trezor ecco che noi andiamo a comunicare il nostro IP e i nostri indirizzi o nel caso più gravi andiamo a comunicare la nostra XPUB che sono tutti i nostri indirizzi alcuni wallet lo fanno ancora ovviamente questi dati vengono scritti vengono inviati quindi ci sono i dati che realmente viaggiano intorno a noi nel lettere su internet e arrivano a destinazione anche in questo caso noi dobbiamo sperare che tra noi la destinazione non ci sia nessuno dobbiamo sperare che la destinazione tenga questi dati al sicuro e dobbiamo sperare che questi dati anche se venissero creati non vengano poi resi pubblici quindi veramente è una cosa che va a scala come appunto possiamo cercare di condividere meno dati parlando di network privacy di bitcoin ecco appunto avendo un full node che ci permette appunto di essere indipendenti totalmente indipendenti da server tezzi a cui andiamo a richiedere il saldo dei nostri indirizzi è facile avere un full node il giorno d'oggi o ci sono comunque alcuni requisiti non per tutti dipende che tipo di full node vogliamo avere quello più facile possibile supponiamo che io sono veramente un mega nab che voglio solo curare un po' la mia privacy curare questi aspetti qui cercare di comunicare meno dati possibile ma non ho know-how in programmazione in sviluppo non sono uno smanettone cioè ci riesco anch'io oppure fuori portata beh credo che la cosa più semplice e quella più ovvia sia quella di scaricare bitcoin core che è l'implementazione originale di bitcoin e appunto ci permette di avere un full node e un wallet nello stesso software però ripeto in questo caso il problema è che abbiamo le chiavi private su un computer che è collegato ad internet e quindi può essere attaccato ma noi possiamo tranquillamente decidere di avere un full node sul nostro computer quindi non una cosa che rimane sempre attiva che dobbiamo configurare a mano possiamo scaricare tranquillamente un software e aspettare che questo software si sincronizzi con la blockchain di bitcoin ecco che una volta che abbiamo questo software noi possiamo accumulare un wallet potrebbe anche essere bitcoin core che comunica con un hardware wallet quindi noi abbiamo il full node il nodo completo sul nostro computer oppure se vogliamo avere un qualcosa ancora ancora migliore potremmo averlo su un computer dedicato o un raspberry o potremmo averlo anche in cloud anche se comunque non sarebbe la cosa migliore insomma ci sono tantissime soluzioni ad oggi ci sono soluzioni do it yourself ma ci sono anche soluzioni out of the box che potete utilizzare senza configurare nulla quindi accendendolo e basta questo appunto è in base alla vostra competenza tecnico-informatica però utilizzandolo con un hardware wallet in quel caso lì non hai più le chiavi online ma le tiri offline esatto le chiavi private stanno al sicuro nell'hardware wallet l'hardware wallet comunica con il computer e il computer gestisce solamente le chiavi pubbliche e permette di utilizzare appunto e spostare e ricevere i bitcoin eh sì alla fine se uno vuole comunque più vuole difendersi più vuole difendere i propri dati più ci deve mettere un po' di impegno perché purtroppo è così uno può dire io ci rinuncio non ho voglia di fare tutto questo però alla fine bisogna chiedersi cioè cosa vado incontro quali sono i pro e i contro di fare le due cose cioè da un lato sì mi devo sbattere un po' per poter difendere questa privacy questi dati e mi chiedo ne vale la pena e lì ovviamente sta ciascuno di noi darsi la risposta oserei dire e se uno non volesse avere un full node non volesse accollarsi questo onere esistono delle sorte di client dei wallet delle applicazioni che ti permettono comunque di tenere un livello abbastanza alto di privacy e di schermatura dei tuoi dati senza appunto tutto l'onere di dover tirare in piedi un full node bella introduzione appunto qua entra in gioco Wasabi che è appunto il wallet a cui io personalmente lavoro insieme al core team di Wasabi è un wallet è un software wallet pensato alla privacy quindi è privacy per design privacy per default ogni linea di codice è pensata per tutelare la privacy degli utenti che utilizzano Wasabi perché? perché Wasabi attraverso delle tecnologie che sono un po' complicate da spiegare che adesso non spiegherò che appunto vi permettono di avere la massima privacy e richiedere anche dati all'esterno senza avere un full node c'è anche da dire che volendo con un click anche su Wasabi una persona può avere un full node quindi Wasabi è un wallet completo anche di full node in che modo appunto va a tutelare la vostra privacy anche se doveste richiedere le dati all'esterno o se doveste appunto avere transazioni o altre cose è che innanzitutto tutto il traffico viene fatto passare per Tor che è l'acronimo di The Onion Routing che è diciamo che è un network che vi permette di avere confidenzialità nelle vostre connessioni e vi permette anche di mascherare i vostri P quindi di non comunicare la vostra vera posizione geografica nel mondo e anche appunto essenzialmente un numero che vi identifica nel mondo che è comunque collegato a utenze collegato a nome cognome vi permette di avere un labeling molto interessante degli indirizzi in che senso nel senso che io potrei decidere di ricevere dei bitcoin dal mio exchange preferito e posso dire e posso appunto settare che quello specifico quegli specifici bitcoin provengono da quell'exchange e quell'exchange conosce quegli specifici fondi potrei poi fare la stessa cosa con appunto i fondi che magari mi invia Luca i fondi che mi invia Marco i fondi che mi invia Laurea e quindi io ho un wallet in cui ha sottomano sempre tutti tutte le entità tutte le persone tutte le aziende che conoscono un determinato indirizzo di bitcoin e quindi sono in grado di gestire i miei bitcoin al meglio oltre a ciò Wasabi permette e cerca di non far utilizzare gli indirizzi agli utenti una cosa molto importante è di utilizzare sempre indirizzi nuovi ecco anche qua si pone un problema molto serio legato a degli exchange perché alcuni exchange utilizzano ancora gli stessi indirizzi quindi avete un indirizzo unico a cui inviare dei bitcoin quindi ogni volta che inviate dei bitcoin a un indirizzo ecco che si forma una serie di strade che si collegano a tutte quell'indirizzo e da là noi possiamo vedere tutte le transazioni precedenti che avete fatto dai vari indirizzi a cui avete inviato quei bitcoin o a cui avete fatto il withdraw di quei bitcoin quindi ci sono una serie di cose molto importanti su come funziona appunto funzionano le transazioni di bitcoin e come funzionano gli indirizzi vi consiglio quindi di studiare questi temi di imparare questi temi io personalmente ho curato molto e tuttora curo sono il maintainer della documentazione di Wasabi che non è non parlo solamente di Wasabi ma parla di privacy su bitcoin in generale potete trovare molte informazioni utili per preservare la vostra privacy e per utilizzare al meglio Wasabi e bitcoin si posso confermare perché quando me li avevi linkati che ci eravamo fatti questa chiacchierata già in privato ci ho dato una bella letta e ci sono delle informazioni che non conoscevo minimamente quindi anche solo per cultura generale proprio il discorso il discorso semplicemente di come funziona CoinJoin io avevo un'idea completamente diversa cioè proprio la struttura del CoinJoin stesso io mi aspettavo un qualcosa che in realtà però fosse più tracciabile in realtà non è così a proposito infatti spiegaci un po' questo CoinJoin perché Wasabi si fonda sul CoinJoin per preservare la privacy degli utenti è facoltativo utilizzarlo però uno lo può utilizzare cioè che cosa comporta è un sistema di mixing giusto? sì anche se il concetto di mixing è ancora molto legato al riciclaggio di tutte queste cose molto illegali CoinJoin è un termine coniato se non sbaglio nel 2013 che sta ad indicare una transazione particolare che è che può essere effettuata da quando esiste Bitcoin cioè una transazione che comprende più input e più output quindi cos'è il CoinJoin? immaginiamo il CoinJoin come una serie di persone che decidono di creare una transazione unica tra di loro quindi non inviano dei Bitcoin in realtà ma si mettono d'accordo tra di loro decidono di creare una transazione con tutti i loro Bitcoin inserendo appunto degli input e decidono appunto e poi c'è un coordinatore che aiuta anche a creare questa transazione che è appunto Wasabi decidono appunto che ogni output quindi la transazione in uscita alcune saranno tutte uguali e saranno appunto degli output anonimizzati di cui non sarà più possibile collegare quali input corrispondono a quali output e viceversa e poi ci saranno degli output di resto perché sappiamo bene che le transazioni su Bitcoin potrebbero avere dei resti alcune volte questo cosa permette? questo permette di acquisire privacy verso non solo i partecipanti del CoinJoin stesso ma anche verso tutto il resto della rete di Bitcoin perché in quel caso quando avviene un CoinJoin nessuno è in grado di appunto risalire a quali input corrispondono a quali output quindi si crea un meccanismo dove voi avete di nuovo privacy su Bitcoin e potete utilizzare i vostri Bitcoin senza la paura che qualcuno possa seguire i vostri fondi nella blockchain ci trei a fare una precisazione ho visto il link che è stato inviato quella è la mia repository personale dovete andare su docs.wasabiwallet.io e appunto là trovate il sito della documentazione di Wasabi e appunto il CoinJoin è una feature sicuramente molto importante presente su Wasabi è un wallet pensato per dare privacy e permette il CoinJoin in maniera molto molto semplice basta fare un click essenzialmente però come hai ben detto Luca è una cosa assolutamente facoltativa se un utente non vuole comunque tra virgolette avere problemi con degli exchange perché ha paura perché ha sentito che gli exchange hanno sospeso transazioni d'entrata dall'uscita del CoinJoin può benissimo decidere di utilizzare Wasabi solamente come wallet personale perché ricordiamoci che Wasabi è pensato per dare privacy il concetto di CoinJoin è un'altra cosa Wasabi a prescindere dal CoinJoin è creato positamente per dare e garantire la massima privacy sì anche senza CoinJoin alla fine maschera l'IP utilizza Tor non raccoglie dati è open source insomma tutte quelle caratteristiche necessarie tra l'altro specifichiamo anche una cosa nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo è completamente gratuito non c'è nessun tipo di commissione sulle transazioni eccetera eccetera l'unica piccola commissione se non erro è se uno sceglie di utilizzare il CoinJoin proprio per come è funzionante il CoinJoin stesso nel senso dovendo comunque mischiare transazioni c'è questo coordinatore che dicevi insomma che comunque richiede una una piccola commissione sulla transazione e poi io stavo leggendo un po' di domande che alla fine tutti si chiedono un po' come si fa a riuscire a imparare tutte queste cose perché effettivamente non le si trova online c'è poco da dire alla fine se uno vuole imparare l'ABC di Bitcoin la privacy non la trova purtroppo è un tema molto sottovalutato e mi do anche delle colpe io perché di fatto io sono il primo lo ammetto a sottovalutarla un po' perché non ci ho mai dato il peso che merita e l'importanza che merita e forse dovrei farlo io in particolare essendo tra l'altro una persona esposta dal punto di vista mediatico sicuramente qualcuno potrebbe aver più interesse a controllare me che a controllare un qualcuno a caso e cioè se uno volesse informarsi dall'A alla Z al di là delle tue repository delle documentazioni di Wasabi che hai condiviso poco fa con noi esiste qualche canale che lo rende veramente alla portata di tutti che rende semplice comprendere questi concetti e applicarli soprattutto non vorrei sfruttare questo video per spammare il mio canale però diciamo che io ho un canale su Telegram e cerco di aiutare gli utenti su queste tematiche da poco sto anche cercando di creare una call settimanale per educare su questi temi ho sempre avuto a cuore l'educazione ho sempre cercato di educare sulla sicurezza e la privacy di Bitcoin perché io stesso sono stato vittima comunque di problematiche circa la sicurezza e la privacy ho perso Bitcoin ho letteralmente mandato a quel paese la mia privacy più di una volta però vedete lo studio l'impegno adesso mi permette di capire come bisognerebbe utilizzare Bitcoin nel migliore dei modi e vorrei appunto educare le persone e voglio che le persone non facciano i miei stessi errori ovviamente purtroppo in italiano ancora ad oggi non ci sono tantissime informazioni non ci sono molti contenuti ma per il semplice fatto che Bitcoin è così veloce così dinamico che molte volte un qualcosa che viene scritto in un determinato periodo lo diventa obsoleto in pochi mesi è capitato a me stesso il fatto che io comunque non faccia molti video e avrei smesso di fare articoli anche perché mi sono reso conto che questi temi appunto della sicurezza sono troppo dinamici quindi l'unica cosa che si può fare a mio parere è innanzitutto leggere white paper di Bitcoin cercare di leggere master in Bitcoin che tra l'altro trovate gratuitamente anche sul mio sito oppure c'è anche la versione cartacee su Amazon perché questo vi permette anche di avere una conoscenza tecnica proprio di come funziona Bitcoin di come funzionano le transazioni di come funzionano le wallet quindi di capire come funziona innanzitutto è importante capire come funziona poi da là si può decidere di ampliare le proprie conoscenze su determinati temi appunto la documentazione di Wasabi Wallet in questo caso offre tantissime informazioni circa la privacy su Bitcoin naturalmente la ritengo non perché sia perché abbia comunque contribuito molto ma la ritengo la bibbia della privacy di Bitcoin vi consiglio di informarmi molto su Lightning Network c'è il libro gratuito su Github che si chiama Mastering Lightning che sta scrivendo Andrea Antonopoulos e potete anche contribuire se volete potete anche aiutare a tradurlo anche questo è un progetto open source e potete imparare molto sul funzionamento di Lightning sulla privacy che offre Lightning e anche sulla privacy insomma in generale di Bitcoin vi consiglio di seguire una newsletter molto interessante di una certa Janine spero dopo di poter dare il link a Luca sì sì poi dammeli tutti che così quando poi riposto questo video su YouTube li lascio tutti in descrizione per chi poi è incuriosito vuole approfondire assolutamente e insomma quello parla è una newsletter mensile sulla privacy anche sugli avanzamenti della privacy a livello di protocollo di Bitcoin però appunto in italiano so che appunto io ho il canale io su Telegram e so che c'è anche Massimo Musumeci che è un altro content creator che è un altro canale sempre su la sicurezza e la privacy su Telegram quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata sia appunto al mio canale al suo e là sapete che potete trovare insomma persone che condividono questo interesse verso la privacy e la sicurezza di Bitcoin ah guarda me li segno io per primo perché sento di avere anch'io tantissimo da imparare io sono stato addirittura vittima di un attacco di phishing l'anno scorso mi ricordo ti ricordo infatti ci eravamo sentiti proprio perché ho detto ascolta come posso fare aiutami un attimo a tirare su qualche barriera a sistemare le cose a pulire un po' il PC è veramente un attimo anche se uno non ci pensa perché pensa comunque di fare le cose per bene io non è che la lasciavo perdere la trascuravo la sicurezza e meno male perché se l'avessi fatto probabilmente chi mi ha attaccato avrebbe accesso a qualsiasi mio dato a qualsiasi mia piattaforma e insomma molti più dati purtroppo di quelli che già è riuscito ad ottenere però veramente bisogna anche se uno non ci pensa bisogna comunque approfondirlo perché nell'utilizzare Bitcoin che è un network che è uno strumento che ci addossa tante responsabilità nonostante ci dia molti più diritti potenzialmente si parla sempre di avere la proprietà dei propri fondi di non dover più fare affidamento su terze parti sono tutte cose bellissime però caspita sono accompagnate da delle responsabilità altrettanto importanti e non trascurabili una di quelle è proprio riuscire a mantenere un certo livello di privacy perché altrimenti perde di senso tutto questo se diventa un metodo per essere addirittura più sorvegliati più tracciati perde veramente tutto di senso e qualcuno chiede secondo te è meglio CoinJoin o un passaggio poi ti lasciamo andare Riccardo perché ti stiamo trattenendo fin troppo o un passaggio tramite Monero per anonimizzare i propri Bitcoin diciamo che io mi ritengo massimalista di Bitcoin quindi cioè io personalmente non conosco nemmeno abbastanza Monero per darti una risposta precisa questo è un problema comunque mio però se dovessi pensare al fatto che ok facciamo un esempio molto semplice è la prima cosa che mi viene in mente perché ci sono tantissime cose di cui vorrei parlare circa Monero però non ne avrei il tempo ma diciamo che immagina che te decidi di effettuare una transazione su un exchange di spostare Monero ok magari cento cento quindici anzi cento quattordici dollari 92 centesimi di Monero alle 8.02 di mattina del 3 febbraio ok l'exchange ha questa informazione perché tu ti affidi a un servizio centralizzato tu non sposti criptovalute sulla blockchain tu quando scambi Bitcoin per Monero lo fai su un libro dedicato di Binance libro dedicato di OKEX libro dedicato di Bitfinex libro dedicato di tutti gli exchange che ci sono in questo mondo quindi tu non fai veramente transazioni ma fai transazioni su un database loro interno loro hanno questo dato loro lo comunicano loro lo dovrebbero tutelare loro lo tengono al sicuro in teoria e poniamo che poco tempo dopo tu ricevi la stessa cifra a un determinato orario su un indirizzo Bitcoin è molto semplice sapere che sei tu perlomeno magari per me che sono un utente normalissimo sul blockchain è molto difficile se non impossibile però se io ho il dato che tu hai convertito una determinata somma in Bitcoin e poi lo stesso dato circa magari anche centesimi di più centesimi di meno poi posso dire aspetta ci sono le mining fee oppure posso vedere il tipo di indirizzi quindi ci sono tantissime variabili più io ho dati su di te più conoscenza di te e più posso tracciarti è semplicissimo ci sono tantissimi esempi mi viene in mente una cosa che secondo me calza ed è anche efficace come esempio io mi ricordo la prima volta che avevo provato il browser Tor per vedere non per fare chissà quale cosa ma semplicemente per provarlo ero curioso e mi era comparsa la finestra di una dimensione particolare e il browser mi aveva detto non metterla tutto schermo perché altrimenti tu comunque rischi di dare le informazioni sulla dimensione sulla risoluzione del tuo monitor che già comunque è un'informazione in più che tu dai cioè bisogna stare attenti anche alle cose a cui non si pensa ci sono noi condividiamo in tempo reale io in questo momento sto condividendo un sacco di dati su di me però questo è il concetto di privacy io decido che questo tipo di dati che sto condividendo vanno bene approvo a me stesso che voglio condividere questi dati voglio condividere il mio nome voglio condividere la mia faccia anche lui che lo sta facendo però non vuol dire che io non voglia avere privacy verso determinati siti web o servizi soprattutto considerato che se scrivo qualcosa su bitcoin poi è lì per sempre quindi capite bene che questo è il concetto di privacy decidere con chi vogliamo condividere informazioni e con chi no comunque ricollegandomi al discorso di coinjoin o monero sicuramente coinjoin ti permette di avere molta più privacy però ricordiamoci che c'è sempre una traccia sulla blockchain non potrai mai nasconderti sulla blockchain è impossibile però ricordiamoci che tutto il discorso di blockchain surveillance di blockchain analysis si basa su delle euristiche su delle supposizioni più strade ci sono più vie ci sono percorribili è più difficile tracciarvi però se voi utilizzate se voi utilizzate le stesse le stesse figli gli stessi indirizzi gli stessi orari gli stessi computer insomma ogni volta che voi fate un'azione compiete un'azione su internet su un computer questa azione viene registrata da qualche parte quando io ho tante informazioni sul tuo operato riesco a individuarti ovunque nel mondo appunto come grazie appunto come diceva Luca la risoluzione per esempio del browser grazie alle estensioni che hai su un browser grazie al tuo IP grazie agli orari in cui entri grazie alle tue mail al modo in cui scrivi potrei andare avanti non è vero assurdo uno non viene da pensare ma anche un'informazione che sembra generica e insignificante se poi la si incrocia con tanti altri dati appunto vanno a restringere veramente l'insieme fino ad arrivare a identificarti di fatto ti dirò di più se posso bloccarti in attimo adesso sta succedendo una cosa molto interessante rischiosa circa il data breach di ledger perché se nel data breach di ledger c'erano 5 informazioni come nome e cognome email e data di nascita se noi abbiamo anche altri data breach altri database e magari in quegli altri database c'è la vostra mail e magari ci sono anche altre informazioni magari sul vostro sesso o sul vostro orientamento politico o sul vostro indirizzo di bitcoin ecco che grazie a tutte queste cose sparse su internet che possono essere create possono essere prese in mano anche da malintenzionati ecco che io dopo ho tutto il vostro riassunto ho l'intera vostra molto dettagliata ho l'intera vostra identità digitale e non solo adesso ho anche l'intera vostra identità finanziaria fosse poco non è per niente poco e infatti io riprendo un commento che hanno fatto se qualcuno stesse cercando di di doxarmi o di cercare dati su di me non fatelo perché io non ho un soldo ed è proprio per questo che ci metto la faccia ho perso tutte le mie chiavi private non ho più neanche un bitcoin io scherzi a parte Riccardo non voglio andare off topic anche perché adesso poi siamo abbiamo raggiunto quasi un'ora e ti libero ti lascio andare anche se veramente sappi che ti scriverò nei prossimi giorni perché ho un sacco di domande da parti e riguardo alle altre cripto tu hai detto sì sei un massimalista di bitcoin non magari non ti interessi neanche ma ad esempio Ethereum gli altri network principali sono comparabili con bitcoin anche proprio da un punto di vista macroscopico a livello di privacy sono migliori peggiori sono un disastro una disgrazia la DeFi di cui tanto si parla in realtà è tutto forché privata anonima non lo so mi viene da fare anche tutta una serie di domande di questo tipo beh se parli allora il concetto di decentralizzazione aiuta molto circa la privacy ricordiamoci che più nodi ci sono potenzialmente più privacy abbiamo più sicurezza della rete abbiamo purtroppo molte criptovalute altcoin soffrono di gravi problemi di decentralizzazione privacy si può migliorare in qualche modo ci sono molte cose interessanti che stanno avvenendo anche su Ethereum su Litecoin per esempio su Litecoin c'è un fork di Wasabi Wallet c'è Wasabi Wallet per Litecoin lo sviluppano altri team quindi anche questo è bello perché in effetti ecco un'altra cosa che non abbiamo detto Wasabi Wallet non è multicoin giusto? è solamente per Bitcoin ma vedi anche perché poi il concetto di sicurezza e privacy vanno a braccetto se noi creiamo qualcosa di semplice da utilizzare solo per un determinato scopo in questo caso un hardware wallet o in questo caso un wallet solo per Bitcoin come Wasabi allora c'è meno codice ci sono meno dipendenze il tutto è più sicuro è più anche verificabile dagli sviluppatori quindi è importante secondo me cercare di sfruttare wallet di coin singoli ci sono tanti altri wallet per Electrum però personalmente credo che se non avete un full node su Electrum è una cosa impensabile purtroppo è difficile avere privacy e se volete utilizzare Wasabi Wallet si può scusa che mi è venuta questa domanda a volante si può integrare anche con un hardware wallet eventualmente per la gestione delle chiavi assolutamente sì non è possibile fare coin join direttamente da hardware wallet perché appunto coin join richiede una connessione a internet però noi possiamo tranquillamente inserire il nostro hardware wallet quindi avere il nostro wallet gestire il nostro hardware wallet su Wasabi però possiamo anche avere contemporaneamente aperto un altro wallet sempre su Wasabi sempre sullo stesso Wasabi che magari è hot è collegato ad internet le cui chiavi private sono sul nostro computer quindi sono a rischio quindi noi possiamo certo decidere di utilizzare solo con l'hardware wallet quindi non possiamo fare coin join però abbiamo la massima privacy verso il resto della rete parlando di network privacy quindi il modo in cui condividiamo le informazioni o richiediamo informazioni però appunto se vogliamo avere blockchain privacy quindi se vogliamo aumentare la nostra privacy sulla blockchain allora ecco che il coin join è l'unica cosa che possiamo fare attualmente con Wasabi dico l'unica ma è la cosa più grandiosa ovviamente però ripeto infatti non è da poco ripeto è una cosa facoltativa magari potrebbe non essere adatta a tutti vi consiglio prima di farla innanzitutto di leggere la documentazione di studiare e di non seguire quello che vi dico di fare solo perché lo dico ma dovete capire se fa a caso vostro molte volte farà la cosa vostro però non sono io a deciderlo in ogni caso prima di farlo leggete la documentazione potete testarlo wasabi attraverso la testnet quindi potete giocarci con dei bitcoin finti giusto per avere un po' di dimestichezza capire come funziona poi quando vi sentite pronti potrete fare il passaggio e utilizzarlo come vostro wallet principale molto interessante anche la cosa della testnet insomma per avere un po' di dimestichezza è importante anche poterci smanettare un po' però io condivido molto il discorso sulla consapevolezza di quello che si sta facendo perché anche il fatto proprio di essere curiosi di voler approfondire il tema della privacy porta a preservarla meglio perché se uno fa solo quello che sente dire si ferma poi a un certo punto e non può essere un approccio completo anche riguardo a quello che stiamo dicendo oggi quindi la documentazione è importante proprio per capire dove andare a mettere le pezze dove costruire delle barriere cosa stiamo facendo cosa stiamo sbagliando eventualmente e correggere insomma la rotta io per concludere direi prenderei qualche commento che magari qualcuno è arrivato più tardi vedo che molti dicono sì ma cosa c'avete da nascondere perché nascondere ne abbiamo parlato all'inizio magari vale la pena ripeterlo ma il voler avere un certo livello di privacy non vuol dire il voler nascondere qualcosa perché sia in mezzo ad affari loschio ci sono cose che comunque non vogliamo abbiamo paura di dire in qualche modo ma è semplicemente un non volere esporre su un registro pubblico permanente che può essere può insomma chiunque può avere accesso a questo registro adesso tra un anno tra dieci anni e risalire a tutti i movimenti che vengono fatti si tratta del peggior incubo di qualcuno che tiene alla privacy perché si parla delle banche che vedono tutto quello che facciamo quando si parlava di Libra di Emily come si chiama la crypto di Facebook tutti terrorizzati perché Facebook adesso vedrà tutto anche le nostre informazioni finanziarie però caspita è vero è assolutamente vero è una cosa abbastanza agghiacciante tutto pensare a tutto questo però lo stesso è possibile su Bitcoin se uno non ci sta attento e quindi è proprio questo il discorso cioè preservare la privacy sì ma non perché siamo criminali ricicliamo facciamo cose losche o chissà che cosa ma semplicemente perché utilizziamo un mezzo che ci permette di avere totale responsabilità totale gestione sui nostri beni sul nostro valore e quindi caspita facciamolo facciamolo bene però non così un tanto al tocco che poi ci esponiamo ancora di più alla tracciabilità un livello di tracciabilità ancora peggiore se vuoi aggiungere qualcosa Riccardo per concludere sentiti pur libero di dire tutto quello che vuoi così poi ci salutiamo no guarda che hai detto una cosa giustissima che le banche beh è proprio un capitolo del white paper di Bitcoin parla della differenza del privacy model tra i circuiti bancari convenzionali e Bitcoin noi paghiamo le banche abbiamo dei conti bancari e loro le banche tutelano i nostri dati tutelano la nostra privacy quindi nessuno vede quello che facciamo con la nostra specifica banca però tutte le banche lo vedono tra di loro ok stessa cosa avviene su Bitcoin solo che è molto peggiore perché in questo caso noi non abbiamo privacy con nessuno nel network la nostra privacy è garantita dagli pseudonimi dagli indirizzi però se noi comunichiamo questi indirizzi il processo di questi indirizzi degli exchange questi exchange conoscono queste informazioni se le scambiano tra di loro quindi noi innanzitutto non abbiamo più privacy contro gli exchange però gli exchange devono tutelare i nostri dati e far sì che questi dati non vengano esposti poi al pubblico e questa cosa accadrà sempre di più cioè dobbiamo farci una ragione il consiglio che do è studiate date un po' di spazio nella vostra vita la sicurezza informatica e la privacy perché non dovete aspettare di essere vittima di attacchi informatici o di furti di identità o invasione della privacy prima di rendervi conto quanto importante è siate furbi degli altri e cominciate a prevedere il futuro perché sarà molto molto brutto e ve lo posso assicurare sono una persona che ci lavora in questo settore ho visto molte cose parlo con molte persone queste cose e ogni giorno scopro quanto il mondo sta letteralmente andando a a quel paese se così posso dire non vorrei mai che Twitch poi ci mettesse il page di sotto ci vanna per qualche motivo esatto grazie Riccardo grazie a tutti voi non so quanta gente ci sta ascoltando io spero davvero adesso lo ricarico anche su YouTube perché io spero davvero che questi messaggi arrivino a più persone possibile perché appunto al di là di guardare i grafici della speculazione e dei temi che poi sono appunto i caposaldi di Bitcoin come la decentralizzazione il creare un sistema più giusto di trasmissione del valore e così via è importante anche appunto il tema della privacy ma è veramente fondamentale io me ne sto rendendo conto tardi forse perché di fatto lo sto scoprendo in questo periodo però io penso che non sia mai troppo tardi per prendere i giusti provvedimenti e comunque evitare di esporsi ancora di più quindi davvero rinnovo anch'io la raccomandazione di Riccardo di approfondire di studiare alla fine utilizzare Bitcoin è bello ma comporta anche l'onere comunque di farlo al meglio e quindi di preservare per quanto possibile i propri preziosissimi dati con questo Riccardo ti ringrazio io adesso ti chiederò poi tutti i link per la documentazione così li lasciamo nella descrizione su YouTube per chi ci guarderà indifferita e io stesso me li salvo me li vado a vedere perché sono molto molto interessato grazie ancora che dire ci sentiamo presto e eventualmente se qualcuno ha delle domande su qualche tema particolare sentitevi liberi di farle nei commenti magari poi io le giro a Riccardo o comunque entrate anche nel suo canale Telegram tanto tutto tutto gratuito nel senso tutta informazione a disposizione di chiunque non c'è motivo per non farlo così da approfondire anche questa tematica ecco benissimo buonasera a tutti oserei dire vi lasciamo basta un saluto ciao Riccardo e grazie grazie a voi